ma io lo dico dall'inizio della stagione non è una cosa che mi preoccupa ora perché perché dobbiamo tirare fuori di più non sono preoccupato sinceramente perché lo dico dal primo giorno abbiamo questo andamento altalenante non per la condizione non perché storicamente gennaio e febbraio anche perché dobbiamo preoccuparci perché febbraio appena iniziato quindi dobbiamo ancora vivere tutto febbraio poi sicuramente i numeri le statistiche e lo storico dicono qualcosa però realmente questi problemi ce li stiamo portando avanti dall'inizio problemi diciamo questa poca continuità nella volontà di dimostrare che vogliamo vincere ogni partita e vincere la partita passa da vincere un contrasto vincere la partita passa da da giocare perché dobbiamo giocare ma questo non rinunciamo mai non abbiamo rinunciato neanche domenica perché poi se una squadra calcia 27 volte non si può parlare di prestazione con la palla negativa la nostra prestazione è stata negativa senza palla e approssimativa delle volte con la palla e questo passa dalla nostra testa ma da sono io che devo migliorare la testa della squadra quindi è per quello che sono arrabbiato ma non sono per niente preoccupato anzi ormai non si può parlare di una squadra divisa in reparti sia quando ha la palla che senza su questo possiamo migliorare domani sarà molto molto difficile lo sappiamo però ci siamo ritagliati questa questa opportunità perché realmente nella storia del sassuolo non ci sono mai stati quarti di finale coppa italia abbiamo sfruttato quello che di buono la squadra è riuscita a fare l'anno scorso perché battendo il cai li siamo ritrovati nei quarti di finale però non dobbiamo dimenticarci che solo otto arrivano i quarti di finale e ci sono le prime sette della classifica e ci siamo noi quindi dobbiamo meritarci questa opportunità guadagnarcela sul campo e come ho detto già nelle partite precedenti non partiamo battuti sulla carta siamo quasi battuti però ci attacchiamo a quasi e sarà più difficile sarà più difficile perché la juve è cambiata sarà più difficile perché la juve nel mercato si è rinforzata e sarà più difficile perché è una partita secca e giochiamo in casa della juve con i propri tifosi con entusiasmo però questo dovrà essere stimolo dal nostro punto di vista ripeto abbiamo poco da perdere ma ma vogliamo passare il turno perché a detta di tutti penso che ci li hanno battuti ma non lo siamo siamo obbligati a pensare alla partita di domani sono obbligati a pensare domani non rispetto non parlerei di un traguardo storico quindi dobbiamo dobbiamo far di tutto per passare il turno sapendo che dovremo dosare bene le energie perché pochi giorni dopo il calendario ha previsto che giochiamo pochi giorni dopo alle 18 con la roma e sarà una partita difficile giocherà chi sta bene ma non parlo e giocherà qualcuno che non ha giocato la partita precedente ma non parlo di turno perché per me non sarà turno troppo presto per parlare del prossimo anno sicuramente il mercato di sassuolo è stato un mercato futuristico non è stato un mercato pensando solo al presente ma come ci sta che che le società possano fare una società come sassuolo che più lungimirante magari di altre lo possa fare vorrei che nessuno si dimenticasse quando si parla di anno di transizione perché vuol dire transizione significa anno tra virgolette difficile anno impegnativo anno da dove ci serve anche un po di supporto e serve supporto ai ragazzi perché noi domenica abbiamo fatto risultato negativo ma in campo avevamo due 2.399 sfido quante squadre del nostro livello giochino con così tanti giovani e quindi dobbiamo supportarli e poi se saremo bravi e riusciremo a migliorare sarà motivo solo di vanto se qualcuno a fine stagione potrà andare in società che hanno magari ambizioni più alte delle nostre e poi si vedrà è troppo lontano giugno ora dobbiamo pensare a domani e dobbiamo pensare a poi quella dopo dobbiamo come si suol dire guadagnarci la pagnotta nell'immediato passa dalla volontà di accettare la classifica di accettare che gli scontri diretti sono quelli che determinano poi il cammino di una squadra e tutti quelli che stanno intorno a noi e sotto di noi per noi devono essere dobbiamo viverli come scontri diretti per quello che hai detto viene da dire per fortuna giochiamo con la Juve per fortuna dopo la Juve giochiamo con la Roma però realmente con queste squadre anche se fai il massimo o comunque fai il tuo massimo in quel momento e fai bene puoi portare a casa niente io sono convinto che se faremo il massimo potremmo potremmo mettere in difficoltà la Juve ovvio che giocando il giovedì la domenica sicuramente potresti risentirne ma abbiamo abbiamo recuperato giocatori rispetto a solo a due partite fa che andavamo con 13 giocatori di movimento a giocare ora siamo 20 giocatori di movimento disponibili quindi abbiamo le risorse anche per poter cambiare tra una partita e l'altra però dobbiamo trovare energia positiva nella partita di domani per affrontare anche la successiva è difficile, è quasi impossibile ma parlare di semifinale sarebbe un sogno